E alle vere d'epoca è arrivato anche Piero Trevia, l'uomo dell'anno con tanto di coppa e tanto di presentazione sul palco ufficiale, Piero. E' una nuova sfida accettata, ma di nuovo con Loneglio, una rivincita. Facciamo, accettiamo la rivincita, siamo sportivi, siamo dei signori, accettiamo ben volentieri lo sfidante di darci... Una festa nella festa a questo raduno che è veramente splendido. Siete arrivati nel momento della partenza delle vele. Sì, devo ringraziare il Presidente Lucio che mi ha dato l'opportunità di salire sul palco, che mi ha premiato di questo ambito trofeo. E devo ringraziare lui per il trentennesimo anno di attività delle vele d'epoca, evento internazionale, mondiale, che possa portare a conoscere la nostra riviera, ai turisti stranieri, italiani, che vengono a pressare i nostri bei posti. E allora che la festa continua e anche la sfida, non solo quella in mare, quella anche a terra, fra Piero Trevia e Gianmarco Oneglio. Bene, grazie a tutti, saluto a tutti.